Musiamoci! Corazzato nemico danneggiato! Richiedo supporto alla mia posizione! L'abbiamo preso! Centrato! Corazzato nemico danneggiato! Corazzato nemico danneggiato! Puglia! 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 Li abbiamo danneggiati! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'abbiamo preso! Centrato! Bel corpo! Peccato! Peccato! Corazzato nemico danneggiato! Veicolo nemico distrutto! Peccato! 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 Abbiamo perso un ciclo! Siamo fermi! Li abbiamo danneggiati! Possiamo andare! Cannone danneggiato! Abbiamo perso precisione! Corazzato nemico distrutto! Corazzato nemico danneggiato! La piava preso! Preso! Ok! Grazie per la visione!